come va ragazzi benvenuti sul mio canale io sono elie gabrie oggi siamo qua per parlare di team lfttc nel particolare del progetto di cassiopea team ha annunciato che nei mesi di marzo aprile maggio di quest'anno sono stati coperti all'incirca 700 comuni delle aree bianche e questi con tecnologia fttc fino a 200 mega tale progetto è stato nominato con il nome di cassiopea proprio atto a portare la banda larga nelle aree a fallimento di mercato qui sotto in descrizione trovate la lista completa con tutti i comuni team ha inoltre annunciato di voler andare ad attivare le fibre ottiche posate da infratel per quanto riguarda il progetto bull e quindi stiamo parlando sempre di tecnologia fttc attenzione però non stiamo parlando del progetto bull di open fiber ok quindi ftth fwa giusto per darvi un input ma semplice fttc quindi infratel diversi anni fa andava a posare la fibra ottica in determinati comuni comunque zona fallimento di mercato però fino ad ora non c'era stato l'interesse di alcun operatore di andare ad attivare queste fibre ottiche e quindi team ci viene in aiuto stiamo parlando quindi dell'attivazione di circa 300 comuni per un totale di 1600 cabinet e tutto ciò quindi per andare ad abbattere la barriera del digital divide le regioni interessate a questo progetto sono abruzzo sardegna toscana puglia calabria lazio lombardia e le marche noi ragazzi ci vediamo nel prossimo video se avete commenti o altro scrivete qua sotto lasciate un like commentate e condividete mi raccomando cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che stanno uscendo sul canale e anche sulle live noi ci vediamo ciao ragazzi ciao 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 ciao